Amici la challenge di oggi di Fortnite è fuori di testa, come avrete letto ovviamente dal titolo avremo un minuto, né un secondo di più né un secondo di meno per lutare tutte le armi possibili, ovviamente poi i materiali possiamo lutarli quando vogliamo, ovviamente, però un minuto per lutare tutte le armi possibili, sarà infattibile proprio fuori di testa, spero di riuscire a cavarmela se otteniamo una vittoria reale proprio GG totale. Vi invito come sempre a lasciare un mi piace, un commento, condividere il video, fate tutto quello che volete, suggeritemi altre challenge nei commenti che in caso andiamo a fare e iniziamo, incrociate le dita signori, incrociate belle e forte le dita perché altrimenti finisce in tragedia, ve lo dico, finisce in tragedia, inizia. Ok signori, siamo sul bus della battaglia dopo un botto di tempo che non gioco e infatti, esatto, ci sono dei pezzi della mappa bloccati, cioè bloccati oscurati, perché appunto credo che sia scesa l'acqua, non lo so, credo proprio di sì però, ora nel dubbio non è quello il nostro obiettivo per adesso, per adesso, bensì è di andarcene in un posto relativamente tranquillo, lutare per un minuto, poi ovviamente il resto del loot si potrà ottenere sia, vabbè, farmando materiali che uccidendo giocatori, ma sarà dura e appena toccherò terra farò partire il cronometro, speriamo che non ci sia troppa gente, speriamo che non mi disturbino mentre luto e vediamo se troviamo qualcosa di interessante. E credo proprio che il nostro luogo deve essere un luogo veloce da lutare, tipo il palazzo, troppo complicato, cioè complicato, troppo dispersivo, quindi me ne andrei lì, che è ottimo. Cronometro avviato, mancano già 55 secondi, ok, per ora abbiamo il pompa, ottimo, dai dacci qualcosa, ok signori abbiamo già tutto, perfetto, i materiali li prendo dopo, voglio solo prendere il loot adesso, e le ceste, quindi vai spacca spacca spacca, dai dacci qualcos'altro, oh gioco, gioco, mancano 30 secondi, 30 secondi, Non sto trovando niente, non sto trovando niente, dai, che brutto posto ho scelto, pensavo fosse migliore, qua, 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 mi sa che è l'ultima, 20 secondi, devo far velocissimo, prendi, sì, pompa verde, sì, eppure medikit, lascia giù questo, vai, 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 non c'è nient'altro, mancano 10 secondi, vai, lì dentro l'ultimo e poi basta, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, finito il te, no, che schi, oh, beh, scudini, scudini, finito il cronometro, mettiamolo via, Perfetto, ignoriamo, ok, ora, l'obiettivo è non morire, e farmi caricare le armi, ti prego, gioco, caricami le armi, che fastidio quando non le carica, ok, bravissimo gioco, sei stato molto lento e fastidioso, però, il suo lavoro l'ho fatto, ok, quindi abbiamo tutto, ora, l'unica cosa che possiamo lootare, come vi ho già detto prima, sono i materiali, e il loot, della gente che, in teoria, uccideremo, dai, ci sta, mi piace come challenge, molto carina, scrivetemi un'altra nei commenti, che queste challenge su fortnite, Mi ispirano, proprio, me gustano, che fastidio non poter entrare nelle case, tutte quelle pozze da 50 lasciate indietro, mi dispiace, pozzettine, verrete ricordate per sempre, quindi io direi che, dato che non possiamo lootare oggetti, andiamo di cattiveria addosso ai cattivi, ok, qua c'è un tizio, eh, mi sembra strascomodo, però, intanto, i suoi danni, se li hai presi, eh, però si sta curando, dobbiamo salire, dobbiamo salire, dai, proprio quello forte dovevo trovare, Non potevo trovarne uno un po' più normale, un po' più scarsino, no, eh, il fenomeno, il fenomeno, vai, 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 no, ho preso tutte le volte l'ombrellone, muori, sì, sì, quant'era scomodo, mamma mia, quant'era scomodo, dammi tutta la tua mitraglietta, non ho più materiali, ma fa niente, dammi pure la pozzetta, madonna, quant'era scomodo, mamma mia, GG, dai, però, mi è piaciuto il fight con sto tipo, mi è proprio piaciuto, Oh, yeah, mi lancio? Facciamo l'errore di lanciarci, vai Oh, cecco, oh, guardate quanta roba, ma va, che bene, che bene, quanti flopper, quattro, presi, quattro flopper, meglio di uno scudino, per forza Credo che in questa zona non ci sia quasi più nessuno, quindi o che mi metto un po' a farmare e ci si vede dopo, oppure andiamo a pushare di cattiveria tutti, ma sì, dai, andiamo a pusharli un po' tutti Quindi mi prendo una barchetti, oh, guardatelo qua, guardatelo qua Vai che ti ho preso, zi, eh, anche lui è uno scomodo, perfetto, un altro tizio scomodissimo Vai, ti sono entrato, appena 30, cioè, appena 31 di headshot, ok Scappa, va, me ne vado un attimo perché c'era un altro tizio, scappa, 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 bravo Massa Dai, c'era un altro, che fastidio quando mi arrivano gli altri e mi rubano il fight Mi ha visto, mi ha stravisto, ok Cioè, tutto bello e divertente, ma non ho i materiali, eh, eh, potrebbe essere una tragedia Perché senza materiali diciamo che non si fa più di tanto, almeno uno ci prova, ma con fatica Dov'è il tioli? Addio biatch, addio biatch, eh, sì Eh, no, però c'è l'altro qua, no, l'altro qua, no No, vi prego, basta Devo prendere l'altezza Massa, prendi l'altezza Ho un piano, potrebbe essere una stupidata Vai, 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 vai Eh, mi ha laserato, rip Dammi i flopper, dammi i flopper No, scusa Eh, si è morti, si è stramorti Si è stramorti, dai, ho fatto un errore, non aveva neanche troppa vita No Che pampine Vabbè, comunque dai, bello, allora facciamo un secondo Guardate questo quanto loot aveva Eh, perché volevo lootare il tizio Vabbè, fa niente Secondo tentativo, credo anche ultimo, sempre che non finisca subito Però dai, mi piace questa challenge Carina Dai, secondo tentativo No, l'autorità no, per questa challenge è troppo difficile Andiamo a parco Belli, tranquilli, puliti, puliti Classicone Dai, andiamo al classicone Non vedo l'ora che scenda l'acqua Così che si sblocchino tipo lo squalo, la grotta E basta, sostanzialmente lo squalo e la grotta Tanto c'ho anche su una delle mie skin preferite Questa qua mi piace un casino Soprattutto con questo stile personalizzabile E speriamo che non ci sia troppa gente Cioè, guardate quant'è bella Non c'è nessuno? No, dai, impossibile che non ci sia nessuno Vanno tutti a sapere Ah no, no, guardate qua Guardate quanti a borgo Vabbè Vabbè Ok, appena tocchiamo la casa Avvio Avviamo Ok, cronometro partito Dobbiamo fare molto veloce Almeno parco lo conosco benissimo Perché c'è da tipo 27 stagioni Le armi base Ok, le abbiamo Pompa è anche l'altro Perfetto Vai, scendi, scendi veloce Scendi veloce Scendi, scendi massa Cecco Perfetto Il cecco Su, 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 su I materiali devo prendere dopo Tutto dopo, tutto dopo Lasciamo giù uno dei pompa Perfetto Abbiamo già tutto Se troviamo un tac È proprio ottimo Dai, scendi, scendi, scendi Quanto manca? 30 secondi Siamo a metà dell'opera Quelli li prendiamo dopo E lì niente Non ci interessa Questo non ci interessa Va Uh, la jump Perfetto E l'M4 Perfetto E pure gli scudini Ottimo Bene, quindi 13 secondi Dai, è finita Con 13 secondi di anticipo Stoppiamo il tutto E le armi Base, base Diciamo Le abbiamo Ora avevo preso questo Perfetto E queste sono le armi Che ci teniamo Per questa partita O meglio Per questo inizio partita E intanto Vedete Il cronometro Ha suonato Non so se l'avete sentito Guardate lì Che bella Quella pozza Che bella Vabbè Ora non so Se c'è della gente Proprio non ne ho idea No, guardate qua Guardate qua La cassa No, vabbè Dicevo Non so se c'è della gente Quindi in caso Se trovo qualcuno Ve lo dico Altrimenti Mi luto un po' di materiali E ok C'è gente Dai, dai Che esplodi Dai via Quelli sono i tizi di borgo Che non hanno le armi Stracuotato Ok Ho detto una stupidata Ok Dai, 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 dai Strapicchiato Strapicchiato Non ha tanta vita Ma io ho sto pompa Che mi fa schifissimo Sapete cosa? Secondo me Lui non ha i materiali Però io non ho i colpi Quindi è una sfida Dai, dai, dai No, non c'è vita No, non c'è assolutamente vita Dai, muori Oddio Oh, yes Finalmente Quanta vita aveva Non avete idea Perfetto Prendiamogli pure l'M4 Va Oh, vedete Abbiamo già fatto un upgrade Sia di pompa Che di bende Che non fanno mai schifo E ora ci prendiamo Pure questo barile Buono Dai, una kill L'abbiamo fatta Vado a lutare Ci vediamo tra un bel po' Allora Mi sono mosso verso Borgo Come vedete Le armi sono sempre quelle di prima E voi non avete idea Delle cose che ho trovato Cioè ho trovato uno scar Un tac viola E ho dovuto lasciarli giù Cioè mi ha fatto di un male al cuore Che proprio Non parliamo ne più Basta Non parliamo ne più Altrimenti finisce in lacrime E io volevo vedere Se c'era qualcuno al buon Borgo C'è un tizio Lì Ah, sì Sì, sì, sì Forse due che stanno fightando Mmm Sì Mi sa proprio di sì Ok, mi han pushato col rampino Perfetto Mi han pushato col rampino E la Thompson È la fine È assolutamente la fine Se n'è andato Dai, ma perché te ne vai Che se lo uccidevo Gli prendevo il rampino No Si è morti Si è morti Ok Ok Scappa Massa Scappa per sempre Scappa 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 No, è la fine Ripperoni Ripperoni Signori, è la fine Dai Ci han fatto Oh mio Dio Quanta gente è arrivata Signori Credo proprio Che purtroppo Non abbiamo ottenuto La vittoria reale Come nello scorso video Che è stato un bel video Vi consiglio di andarla a vedere Io, come sempre Mi tolgo le cuffie Come è la fine di ogni video Ma stavolta Siamo un po' più tristi Perché sono state due Carine partite Potevamo fare molto meglio Spero che questo video Vi sia piaciuto La challenge Non è troppo facile Ma non è neanche difficilissima Vi invito a consigliarmi Nuove challenge Nei commenti E ringrazio nuovamente Vi do appuntamento domani Dio solito Ovvero due e un quarto Per questo periodo estivo Con un nuovo video Ciao Dai Ci han fatto cadere